Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. In un video che sta rapidamente diventando virale, Emanuele Filiberto di Savoia, membro della celebre Casa di Savoia, viene catturato in un momento intimo e sorprendente. Le immagini, scattate a Los Angeles da paparazzi esperti, mostrano il principe in un bacio appassionato con una donna di grande fama in Italia. Il video inizia con Emanuele Filiberto camminare per le strade di Los Angeles, visibilmente sereno e sorridente. Improvvisamente, una figura affascinante appare nella cornice, avvicinandosi al principe con un sorriso complice. I due si abbracciano calorosamente, trasmettendo un'energia palpabile. Nel momento culminante del video, i due si scambiano un bacio appassionato, lasciando trasparire una connessione intensa. L'immagine di questo gesto romantico tra il principe e la donna misteriosa è rimasta impressa nella mente di coloro che hanno avuto l'opportunità di vedere il video. Questa sorprendente scena ha scatenato una serie di interrogativi nel pubblico italiano. Molti si chiedono cosa significhi questo bacio per la situazione sentimentale di Emanuele Filiberto, dato che non ha mai annunciato ufficialmente la fine del suo matrimonio con Clotilde Curau, sua moglie da anni. Le voci sulla possibile rottura tra Emanuele Filiberto e Clotilde si rincorrevano da tempo, ma fino ad ora non vi erano prove concrete. Tuttavia, il video recentemente emerso sembra confermare la separazione tra i due. Ciò ha sollevato numerosi interrogativi sulla vita privata del principe e sul futuro della sua famiglia, mentre il pubblico rimane in attesa di ulteriori informazioni e dichiarazioni ufficiali da parte di Emanuele Filiberto e Clotilde. Questo video continua a suscitare un acceso dibattito e alimentare la curiosità del pubblico su ciò che riserva il destino per il principe e la sua affascinante compagna. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.